Anche a Sciacca verrà celebrata domani la quindicesima giornata nazionale sulla SLA, malattia rara e che ancora oggi non ha una cura. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e a tal fine abbiamo chiesto la testimonianza delle sorelle Caterina e Carmela Sant'Angelo, il loro papà e da anni affetto dalla SLA. Convivere con una persona cara malata di SLA è difficile perché innanzitutto è una bruttissima malattia in quanto la persona, insomma mio padre è vigile di testa, è lucidissimo, solo che è bloccato in un corpo che purtroppo non risponde ai comandi. Quindi vedere l'immagine di una persona immobilizzata ha già un impatto molto forte, difficile anche da accettare. Però con questo non bisogna mai abbattersi, bisogna trovare la forza e il coraggio di affrontare ogni situazione. Quindi grazie anche all'Associazione e all'Aisla, alla fondazione, offre tanti servizi per le famiglie e per gli ammalati di SLA. Quali possono essere il supporto, il conforto, supporto anche psicologico, supporto con delle iniziative che possono fare a livello anche nazionale, dei consigli, dei rapporti, come affrontare la malattia giorno dopo giorno, perché affrontare un malato di SLA non è semplice. Ha bisogno di cure H24, di assistenza continua, di comprensione e di molta pazienza. In tutto questo emerge anche la carenza della sanità nel territorio. Sì, la carenza della sanità, sì, perché diciamo che io sappia l'unica struttura possibile è a Messina, si trova nelle zone di Messina. Nelle nostre zone non ci sono strutture che possano accogliere questi tipi di malati. Poi l'assistenza anche in casa, è difficile riuscire a trovare dei caregiver o comunque qualcuno che possa affrontare situazioni del genere. Quindi la sanità, insomma, il servizio non offre tanto, però bisogna andare avanti e quindi bisogna trovare anche fra di noi le soluzioni. Appunto per questo l'AISLA è importante perché ti aiuta a conoscere anche delle agevolazioni che ci possono essere. Insomma è un supporto sia per le famiglie che per gli ammalati. Consigliere Sant'Angelo, per l'occasione lei ha sollecitato l'amministrazione come simbolo ad illuminare uno dei monumenti della città di colore verde, richiesta che è stata accolta prontamente. Sì, sì, per questo voglio ringraziare pubblicamente l'amministrazione, ma come ho detto soprattutto l'assessore Patti, perché nel momento in cui ho inviato la richiesta che proveniva dal centro AISLA ha accettato immediatamente e ha illuminato la Porta Palermo anche prima, giorno 14, proprio allo scopo di sensibilizzare ancora di più la cittadinanza, le persone, le famiglie, proprio per dare un segno di speranza a tutte quelle persone che sono affette da questa malattia. E' un segno appunto, un simbolo, però sono importanti anche i simboli per voi, per le famiglie, per gli ammalati. Sì, è lanciare un messaggio, un messaggio non soltanto alle famiglie ma anche agli ammalati di SLA. E' per dirgli voi ci siete, noi vi pensiamo, noi vi aiutiamo e vi sosteniamo. E' per dargli la possibilità di affrontare un'altra giornata con il sorriso, perché non è semplice, è difficile convivere con un ammalato di SLA, perché, come ha detto precedentemente mia sorella, necessita di una cura H24, non lo possiamo, non si può lasciare da solo. Lui è consapevole della malattia che ha, però l'affronta in maniera dignitosa, è un uomo molto coraggioso, mio padre è a voglia di vivere. E per lui anche vedere la porta illuminata è un grande senso di affetto, cioè per dire noi non siamo dimenticati, noi ci siamo.